2 alla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10 si divide sempre da 2 alla 4 Benvenuti al livello del Cure in una notte come questa, legenda del programma del Cure. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.